Uno rubano delle cose agli italiani. Faccio un esempio su tutti. Fondo sociale europeo che è quello del reinserimento lavorativo che si dà alle persone magari che hanno disabilità, hanno dei problemi nell'inserimento al lavoro. Arriva un tot di soldi, sono dati dalla regione ai comuni. Bologna, arrivano 400 percorsi da fare, 100 vengono dati ai richiedenti asilo oggi. Prima no, erano 100 percorsi che prima finivano a degli italiani. Cioè questa è la verità dei dati, è inutile che ce lo raccontiamo diverso. Ha deciso la regione Emilia Romagna di destinare anche al richiedente che domani può essere benissimo un clandestino.